Comunicazione per tutti i coccodrilli che vivono a Londra o che stanno il 21 giugno a Londra Suonerò lì, scrivete a mia sorella perché potreste avere la possibilità di cenare con noi Quindi il 21 giugno a Londra, scrivete a Chiara chi è lì e ci vediamo lì, non vedo l'ora, mai fermo C'è il Papa in gita, perché sta all'ospedale, fa una bella gita, speriamo che ha fatto un biglietto di ritorno, guarda come rira Antonello Speriamo che ha fatto pure un biglietto di ritorno, l'ha fatto sulla casa, Massimo Bolli, no E' successo o no? L'ha visto il tuo nipote con questo cazzo di macchina, guarda qui E' schizzata di qui, vedi? Ma scusa Vedi da dove schizza? Questa è una macchina seria E mica io c'ho la prostata Ma la domanda è chiara, proprio imprescindibile, imprescindibile, inscatrabibile, ma come si è comportato? Ma malissimo, ecco, sta dai calci, guarda Guarda come si è messo, con lo chasslon Si, con lo chasslon Con il calciano, maratona, maratona Eccolo, guarda come calcia Con il sinistro Guarda come si è messo, guarda come si è messo